Non ti scordar di me è tornato alla 25 aprile. La scuola di Borgo Trebbia ha aderito ancora all'iniziativa promossa da Lega Ambiente per sensibilizzare gli scolari, gli insegnanti e le famiglie a prendersi cura degli edifici scolastici. Da circa 20 anni la 25 aprile mobilita le classi e così anche quest'anno i bambini hanno piantato fiori e creato spaventapasseri, realizzato l'orto e restaurato le panche e i tavoli nel giardino della scuola. Questa giornata è dedicata alla nostra scuola e quindi i bambini svolgono delle attività che tendono a migliorare la scuola, a renderla più bella e quindi noi abbiamo pensato 5 attività diverse in cui abbiamo fatto dei gruppi misti, quindi classi aperte, ogni gruppo è formato da bambini di prima, di seconda, di terza, di quarta, di quinta e allora abbiamo diverse attività. Noi per esempio stiamo facendo l'orto, l'orto della scuola, quindi stiamo seminando verdure, insalate eccetera, abbiamo la collaborazione di alcuni nonni molto gentili che sono venuti ad aiutarci perché effettivamente questa iniziativa è proprio rivolta sia ai bambini ma anche alle famiglie in realtà, quindi anche i genitori e i nonni possono in questo giorno aiutarci e collaborare proprio per rendere migliore la scuola, per sentirla più loro. Poi abbiamo altri gruppi, c'è un gruppo che sta restaurando le panchine del nostro bel giardino, quindi le sverniciano eccetera e poi le dipingono, poi c'è un altro gruppo che si occupa del giardinaggio, quindi davanti alla scuola mettono i fiori nelle fioriere, abbelliscono con i fiori, poi c'è un altro gruppo che si occupa di decorazioni varie e poi c'è un altro gruppo che si occupa della sicurezza.